La raccolta, primi e secondi d'autunno, in regalo con il Quotidiano Il Centro. 80 ricette di stagione in comode schede da conservare ogni lunedì, mercoledì e giovedì, in regalo con il Quotidiano Il Centro. 80 ricette di stagione in comode schede da conservare ogni lunedì, mercoledì e giovedì, in regalo con il Quotidiano Il Centro.